Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi ritorniamo a parlare di gaming. Un paio di mesi fa lo abbiamo fatto mostrandovi la PS Vita. Oggi invece abbiamo recensito la nuova versione della console portatile di Nintendo, la 3DS XL. Scopriamolo insieme. Grazie a tutti. Nella confezione il cavo di alimentazione. Dobbiamo procurarcene uno a parte. Nella guida rapida il modello consigliato è il WAP002EUR per Nintendo 3DS. Il processore è un ARM11 MP Core Quad Core 268 MHz con 256 MB di RAM. Il peso è di 329 grammi e il design è a conchiglia. La misura è a 93.5 mm di altezza per 160 mm di larghezza e per uno spessore, da chiuso, ovviamente, di 21.5 mm. Abbiamo doppio schermo. Quello superiore, che mostra immagini 3D da 4,88 pollici e una risoluzione 800x240 pixel, 400 pixel per occhio in modalità 3D. Quello inferiore LCD touchscreen da 4,18 pollici con risoluzione 320x240 pixel, sensibile al contatto e che permette l'interazione tattile anche con lo stilo incorporato che permette di trascinare elementi sullo schermo. La parte centrale dello schermo touch ha un'area dedicata NFC per poter utilizzare oggetti compatibili come carte o amiibo, le statuette interattive, per leggere o scrivere dati mentre si gioca. In alto troviamo la fotocamera frontale utile per la funzione 3D. Di fianco, invece, un LED infrarossi che serve a seguire il volto della persona in condizioni di scarsa illuminazione. Ai due lati dello schermo, gli altoparlanti destro e sinistro. A destra il regolatore di profondità 3D, con la possibilità di escludere completamente l'effetto, mentre sulla sinistra il regolatore del volume. Sulla parte frontale, partendo da sinistra, troviamo lo slot per alloggiare la scheda di gioco. Lo slot supporta le schede per Nintendo 3DS, DS, DSi e quelle potenziate DSi. Troviamo poi la presa audio per attaccare le cuffie, il pennino estraibile, il microfono e il tasto accensione. A seguire, il LED di indicatore di ricarica e quello Wi-Fi. Vandiamo invece intorno al touchscreen. Qui troviamo, in alto a sinistra, il pad scorrevole, sotto la pulsantiera a croce. In alto, invece, a destra, troviamo il LED indicatore notifiche. La grande novità, poi, ovvero lo stick C, molto sensibile e con una buona risposta. Sotto ancora, i pulsanti con le lettere colorate A, B, X ed Y. Poi, ancora più in basso, il pulsante Start e il pulsante Select. Al centro, sotto lo schermo, troviamo invece il tasto Home, posizionato in un incavo, in modo da non essere premuto accidentalmente. Nella parte posteriore, troviamo invece i pulsanti L ed R e i due nuovi pulsanti dorsali ZL e ZR. Al centro, la presa per l'alimentatore, che come abbiamo visto è da acquistare a parte. Ai lati della presa, ci sono invece i pin di contatto per l'eventuale stand di ricarica, anche questo venduto separatamente. Sulla sinistra, troviamo l'attacco per il laccetto da polso, sempre venduto separatamente, e infine il modulo infrarossi, che serve a inviare e ricevere segnali. In alto, sulla parte superiore, i due obiettivi della fotocamera. La scocca posteriore, invece, può essere aperta per accedere alla batteria alla microSD di sistema sostituibile. Quest'operazione, però, risulta abbastanza complicata per via di due viti da dover svitare. La nuova versione della console di casa Nintendo ha introdotto una stabilizzazione per il 3D basata sul Face Tracking. Viene utilizzata, infatti, la fotocamera frontale per tracciare i movimenti del viso e permettere così che l'effetto 3D sia più stabile, anche cambiando l'angolo di visione. Il processore quad-core ha sensibilmente migliorato la velocità della console. Questo si traduce in una reattività maggiore ed anche in un aumento delle prestazioni nel download dei giochi. La batteria si ricarica in circa 3 ore e mezza. Come abbiamo visto, per poter accedere al suo alloggiamento bisogna svitare la cover posteriore. Quanto a consumi, la durata è di circa 6-7 ore utilizzando i giochi Nintendo 3DS, che aumenta fino a 11-12 ore utilizzando giochi Nintendo DS. Naturalmente, questi dati variano anche in funzione della luminosità, soprattutto se impostata quella automatica. Giocare con la luminosità in automatico in ambiente molto illuminato riduce sensibilmente la durata della batteria. La Nintendo 3DS XL ha tre fotocamere da 0.3 megapixel che sono state migliorate sensibilmente e che permettono di scattare foto più belle in condizioni di luce scarsa. Le due fotocamere affiancate posteriore, infatti, permettono di scattare anche foto e video in 3D. Ovviamente, non potevamo che mostrarvi anche una modalità di gioco. In questo caso, abbiamo utilizzato Inazuma Eleven Go Ombra, una delle più fortunate saghe per quanto riguarda il Nintendo. In questo caso, andiamo subito all'allenamento. Vi mostro un po' il gioco che narra di un ragazzo che ha voglia di dimostrare il proprio talento calcistico. E ovviamente, in questo gioco, potrete costruire non solo la vostra squadra, che punta ovviamente a diventare la più forte di sempre, ma anche e soprattutto giocare. Il tutto grazie ovviamente al vostro pennino di riferimento. In questo caso, siamo già in partita e ovviamente puntiamo a muovere il nostro calciatore. Dopodiché, una volta effettuato l'inizio del gioco, sarete messi davanti a numerose sfide, come ad esempio quella di bloccare un avversario, oppure quella di calciare verso la porta. Ovviamente, questa modalità di gioco è riservata anche e soprattutto a dei video, che grazie al 3D si vedono in una maniera davvero efficace. In conclusione, possiamo dire che la Nintendo 3DS XL ha raggiunto livelli altissimi dal punto di vista del gaming ed anche delle prestazioni, con un 3D davvero ottimizzato. L'unica cosa che ci fa un po' storcere il naso è l'assenza dell'alimentatore e del vano per la batteria e per la microSD protetto da viti. Per il resto, invece, consigliatissima. Io vi ricordo che potete scriverci le vostre domande o le vostre osservazioni qui sotto. Per acquistarlo, invece, www.bytecno.it Ciao e alla prossima!